Musica Amici sportivi, Arcini, buongiorno, festa della liberazione 25 aprile, strassassalvo, triplette giallonero qui a Sassalvo che d'ora in poi si chiamerà Sasso Giallonero in onore degli Arcini Pogli Arcini Allora, siamo con i tre campioni, cominciamo da Kaut Khalid, reduce dal pellegrinaggio alla Mecca Successo importante Khalid, impressioni per questa gara Sì, sono contento, quindi ha fatto bene il pellegrinaggio alla Mecca, mi ha dato la carica e sono rientrato subito Vai, dedico questa vittoria qui a mia madre e mio padre, i miei genitori Saverio invece tu sei l'efa di Paese, Ricciolo, come hai visto questa gara, un ottimo secondo posto Con vista dura, però ho un bel finale, un finale che ti ha piaciuto Ti è piaciuto, quindi anche il prossimo anno sarai qui Io sicuramente Bene, obiettivi per questa stagione? Viaggio, con il finale, ora e fa Quello che viene Quello che viene Giacomo Figoli, terzo, reduce da un buon piazzamento a Lido di Camaiore Un buon piazzamento anche oggi, un podio prestigioso dietro ai tuoi compagni Sì, un ottimo podio, sono contentissimo Poi correre con due campioni come Khalid e Saverio è sempre più facile E quindi speriamo di continuare così e fare qualche altro podio giallonero E vai! Domenica a tutti a Bagnone alla corsa di Roberto Domenica a tutti a Bagnone, certo E quindi forza Arcini!